Musica Salve a tutti i Blazers e bentornati nella Pixelmon, sono qui in compagnia di Arctic Runner Salve a tutti i caccioli del web, oh mio dio, sono partito urlando come un pazzo Speriamo non log, anche come in tutti i caccioli No, però i timpani proprio sanguineranno quest'oggi È avuto un volume incredibile Vabbè, come è il mio solito, la intro a Bombazzo A Bombazzo, sempre ti schianti con la bici A Bombazzo, amici E metti la foto sul web Ma quella è un'altra storia, ragazzi Noi oggi siamo qui per craftare la macchina dei fossili Eh, la storia, andiamo direttamente nel futuro Sì, anche se i fossili vengono dal passato Però è una macchina per i fossili, quindi tecnicamente viene dal futuro Eh, questa è una bella domanda, però a noi non ci sovviene questa questione Allora, cosa ci serve per la macchina dei fossili? Ci serve alluminio E Arctic non ne abbiamo abbastanza, quindi dovremo andare in caverna Ci serve un'unità sola di redstone E ci serve della sabbia per il vetro E ci serve del ferro per i cosi di ferro Per i secchi di ferro Oh, madre Per cui, allora, iniziamo dalle cose semplici Tipo la sabbia Cioè, non c'è della sabbia qua? Tipo, no? No, no, non credo proprio No, allora andiamo un secondo Tipo in spiaggia Ma, tipo, fare cut Vuoi fare un cut? Facciamo un bel cut Facciamo un bel cut, dai Comunque, ragazzuoli, abbiamo preso un po' di sabbia qua dietro 16 pezzi dovrebbero bastare Perché dobbiamo fare 6 pannelli di vetro Per uno dei pezzi Aspetta, Eren, prima di fare ciò Che ne decidi andare a dormire ora? Sì, aspetta che metto solo a cuocere Così intanto poi Ah, è giusto, è giusto Allora, io Mi spiace, Eren, ma tu mi hai deluso molto No Non cercevi il perché No, me ne vado a letto triste Io andrò nel mio letto buggato, triste Perché, carissimo Eren Tu non hai detto che gli iscritti devono lasciare mi piace Eh, ma io lo dico a fine video No, lo devi dire, io lo dico inizio video Artic A fine video lo dico Vabbè, dai, diciamolo subito allora Ripariamo a questo errore Dillo, dillo tu Ok, ragazzi, quindi voi dovete lasciare esattamente 1.475.222 radice cubiche di 64 Elevato alla terza Con una Pokéball Like Ok, va bene Ok, grazie Artic Possiamo proseguire Nella nostra avventura di Pokémaster Ma più che altro pensavo tu te ne fossi dimenticato Ho detto, ma perché No, io di solito lo dico alla fine Comunque, vabbè, diciamolo anche adesso un'altra cosa Che comunque sia, come sempre, l'episodio successivo Sarà nel canale di Artic Non so se uscirà domani Sì, sì, certo che uscirà domani Uscirà domani Ok, conferma Artic Quindi domani Tutti sul canale di Artic Che c'è il Proseguo Di questa storia Probabilmente con il continuo anche del crafting Ma, Eren, lo sai che mi hanno scritto di fare? Dica Mi hanno detto di aggiungere Intanto scegliamo Mi hanno detto di aggiungere la mod quella lì Delle ragazze Della friend, non so per chiamarla Della girl friend Perché? Beh, puoi provare a catturare la ragazza Dici che è possibile? Ah, sembra... Forse è l'unica soluzione per catturarne una, credo Ah, ok No, beh, guarda Secondo me è più facile Se gli lanci un diamante Probabilmente la catturi Però Lì proprio sei tranquillo Dove stiamo andando? Eh, sto... Allora, abbiamo bisogno di alluminio Io stavo guardando questo tunnel qua Non so Questo qui è il mio fantastico tunnel L'avrei scavato tu Tipo Quando ti sentivi Continuiamo a minare? Si può fare Si può fare Se ci fosse una caverna già fatta Sarebbe più semplice Ma infatti Perché così è un pochettino incasinated Andiamo lì Va bene Devo mettere il slime Mi stai dicendo? Sì No, in realtà Non ce l'abbiamo l'X-Ray Però Farebbe Farebbe un bel po' Comodo No, ma che è di fare? No, vabbè Se no si fa il secondo cut Dell'episodio qua E direi che Ci Troviamo Che si fa tutti i minerali E ci rivediamo poi Dunque ragazzi Ritorno dall'ennesimo cut Abbiamo scavato un bel tunnel Finché non abbiamo trovato Tutti i vari minerali Allora Qua c'era la boxeat Giusto? Sì, prendilo Sì, prendilo Vediamo quanto ce n'è Ce ne servono due pezzi Mi sembra Ok Due, tre Ma Oh, guarda Pure del ferro Comunque Ritendo e scherzando Eren Tu che Pokémon vorresti prenderti Dai minerali? A me piacciono I fossili Di terza generazione Ah, di terza? Chi c'è di terza? Aspetta Armaldo Se si chiamava così E Cabuto E Oddio non me lo ricordo No, Cabuto è di prima Di prima Minchia, proprio Si vede che i Pokémon Siamo una cosa sola No, io li conosco A parte che Mi ha fatto girare I coglioni uno Adesso lo devo dire Un momento incazzatura Uno nei commenti Tra l'altro Non si poteva neanche rispondere Perché non aveva Google Plus connesso Mannaggia lui Scrive Si vede Che non ne sapete di Pokémon Guarda Se non bestemmio Guarda Mamma mia Allora Io gioco ai Pokémon Da quando avevo 5 anni Il mio primo gioco È stato Pokémon giallo Ok Io quando Quando è uscito Pokémon Rosso e blu In bianco nero Li ho visti Li ho giocati Tramite amici Ed ero vivo Perché sta gente Che commenta Non era neanche un pensiero Quando Quando è uscito il primo Pokémon Io c'ero Me li sono giocati Tutti Fino ad adesso Per cui Non ditemi Che non conosco i Pokémon Ho una squadra Che fa cagare Perché Perché sono in alto mare Con la preparazione Ma quello è un altro discorso Non è che non Non si conoscono i Pokémon Quindi non fatemi Girare i 5 minuti A parte tutto Comunque Anche a me ne ho detto la stessa cosa Comunque anch'io Gioco ai Pokémon Ma E ho 400 di ore Cioè proprio Ho nerdato su tutti Il punto è che Non è che ragazzi Non siamo una wiki noi Non ci possiamo ricordare tutto Allora Allora Redstone Prendi la Redstone Qua c'era la Redstone Dobbiamo ricordare sempre tutto E in ogni caso ragazzi Cioè noi non siamo qui Tanto per giocare ai Pokémon Ci vogliamo Giusto Imparare a giocare ai Pokémon Con la Pixelmon No Siamo qui Per farvi divertire Di divertirci Ancora Magari anche Che ne so Anche fare Che ne so Una cazzata Magari può anche piacervi a voi Non lo so È un esempio stupido Ecco Tipo un'altra cosa Che mi state dicendo in tanti È il fatto che ho 3 Pokémon d'acqua Ragazzi Lo so anch'io Che un team Con 3 Pokémon d'acqua Non ha senso di esistere Però Questi Questi ho trovato Per adesso Ok Poi ovviamente Ne tengo uno solo Di questi Tutto qua Esatto Anche io Ad esempio Ho preso due Pokémon Che hanno la roccia in comune Come tipo Vabbè Lì c'è altro ferro Però siamo a posto noi Quindi Ma sì Ma chi c'è ne ferro Ma poi Queste caverne che abbiamo fatto Sono bellissime Ce l'hai dei blocchi? Eh sì sì Perché hai scavato tutto storico Te l'ho buttato In beneficenza Però va bene Ma che cazzo di Tu ne l'hai fatto Hai visto Che figata no Senti Io Sono un grandissimo minatore Si vede Si vede Si vede Prendiamo anche Del carbone Ecco tipo Questa puntata La passiamo così Però Dalla prossima puntata Credo Anche se dovremmo Fare le case Penso che Mi metterò sotto Con la costruzione Di un build Di Con la build Attenzione Con la build Di un team Sono un team Definitivo O semi Definitivo Per cui Per adesso Siamo ancora in alto mare Dalla prossima Poi mi dovrò anche allenare Quindi cercherò di Riprendere il buon Arctic Esatto Con un team Decente Eh si Vabbè Questo è tutto da vedere Vogliamo ricordare Che poi Nello scorso video Ho fatto una figura Di merda Ho detto che Marshtomp Si volveva in Garchomp Vabbè Cambia No comment Su questo Ebbè Effettivamente È vero A volte Cioè Più che altro Eren Le sa le cose Sono io Che sparo cazzate No Io li sfa Più o meno Tutti Bene o male No Ma faremo Fai il tipo Marshtomp Si volveva in Garchomp Madonna Magari Mi hanno scritto Nei commenti Si volve Si Allora Intanto Arctic Io Recupero Il vetro E metto a cuocere Le altre cose Il punto è Dove Cazzo Rai costruiamo Sta roba Eh Beh Lo spazio si trova Dai Sei tranquillo Spazio si trova Va bene Allora Andiamo Dritto per dritto Però mi sa che Poi servirà anche Il fossil cleaner Una cosa del genere Però tanto c'è C'è anche il tuo Episodio Esatto Abbiamo il mio episodio Allora Io adesso direi Quindi di Fare il terzo E ultimo taglio Ci rivediamo Quando sono pronte le cose E mettiamo insieme i pezzi Esatto Eccoci qui ragazzi Abbiamo Fatto tutte le varie cose Tipo Picchiare l'alluminio Artic ha picchiato Sto cazzo di alluminio Io non c'avevo voglia Perché ci vuole un'ora a pezzo Vabbè Comunque sia Allora no La crafting table è fuori Quindi Follow me Ma perché Perché è tutto così scomodo In questo cazzo di posto Eh Sì Abbiamo incudine Dentro Qua fuori c'è un allevamento Abusivo Di Cacchio E Sto Porni Ok allora Il primo pezzo La parte superiore Si fa con cinque pezzi Di alluminio Di piastre di alluminio E uno di redstone E ce l'abbiamo La parte inferiore Si fa Credo Con sei placche Di alluminio Si E tra l'altro ci basta La perfezione L'alluminio Perfetto Si infatti che culo Poi dobbiamo fare Pannelli di vetro E qua ci basta Avanza Dobbiamo fare Tre secchi Di Acqua Che adesso Vado a riempire Però sai che Mi sa che Manca qualcosa No Vabbè Tanto c'è il prossimo episodio Nel tuo canale Nel caso Esatto Ma che cosa dovrebbe mancare Forse manca un pezzo Adesso vediamo Comunque sia Dove prendo l'acqua E qui Eh minchia Eh ma non sono sorgenti Sono E acqua corrente Vediamo se riesco a batterlo Fisso l'acqua Qua c'è Arthur Che probabilmente Mi ha rubato anche lui La Ferrari Nel primo episodio Mi serve Mi serve una pozza d'acqua Ragazzi Non volevo fare il quarto taglio Ma mi sa che Qua ci scappa il quarto taglio No ma vicino a me C'è un coso d'acqua Eh ma sono cascate Non posso prendere le secchiate Dunque ragazzi Sono tornato Un'altra volta Dopo l'ennesimo taglio E tra l'altro Ci mancava un pezzo Della Fossil Machine Belle notizie Però abbiamo scoperto Che quel pezzo È quasi in post Cioè non possiamo Permettercelo in questo momento Sì dobbiamo Usare un pezzo Di ossidiano Per cui E dove la prendiamo? Lo ossidiano Ci servono i diamanti Per scavarla Pertanto Nel prossimo episodio Mi sa che dobbiamo Fare sta cosa Con proprio Il benestare di Arctic Che è già Felicissimo l'idea Comunque sia Facendo il punto Della situazione Si mette Nella crafting table Oddio Aspetta Eren Eh intanto Faccio vedere Perché io nel frattempo Scusami se ti interrompo Nel frattempo Che lui faceva lì Stavo combattendo Contro un boss Il quale mi ha droppato A parte la mossa tuono L'ossidiana Ti prego No sì Magari Un po' Mi ha droppato Un merdosissimo Hammer Sì Poi una Calmanella Che serve A farti amico ai pokemon Se non sbaglio Eh Sì mi sembra Per calma I pokemon Poi Ecco Una pietra stante E degli avanzi Quindi buenos Bene Ora gli vengo a regalare Qualcosa di questo Perché Pietra stante È interessante Eh Non fa Evolvere il pokemon Se la tiene Non evolve E se non vuoi far evolvere Un pokemon Gliela lasci Ma Ma che vantaggio Avrebbe Scusa Non ha senso Non fare Non fare Non so Magari Per imparare Certe mosse Per perfezionare Dei pokemon E Per esempio Devi Non lo devi far evolvere Subito Ma lo devi livellare Fino a un certo punto E poi Farlo evolvere Dopo No Non ci credo Veramente Sì perché magari Solo in fase intermedia Impara una determinata mossa Nella fase finale Non la impara Ma è geniale Cazzo Cose che Che le sanno Solo gli allenatori Un po' più navigati E poi mi dicono Che non capisco Un cazzo di pokemon Mannaggia Ah quel tizio lì Comunque sia Ragazzi Non capiamo Un cazzo Della pixel Questo va detto Perché La macchina Si crafta così Però manca un pezzo Che sarebbe Il computer Diciamo Della macchina Che si crafta Con 4 di Pietra rossa E al centro Uno di ossidiana Non abbiamo L'ossidiana La dobbiamo recuperare Non abbiamo nemmeno il diamante Per procurarci Eh si E tra l'altro Ci serve altro alluminio Per fare il fossil cleaner Questo perché Questa è la macchina Per rivivere Far rivivere Diciamo Il fossile Però abbiamo bisogno Anche Della macchina Che pulisce il fossile Prima di mettere Ma se fossile Lasciamo sotto Terra bella bellina No Dai Porta pazienza Che è una parte Fondamentale Della pixel Eh questo lo so Ma non abbiamo nemmeno Graffato le scarpe da corso Mi sento Eh poi lo faremo Lo faremo Faremo tutto Nell'episodio di Arctic Che troverete domani Sul suo canale E mentre Per questo video Direi che Che abbastanza Lasciamo tutto in mano ad Arctic Mettete tutti i like Che ha detto prima Arctic Passate sul suo canale Iscrivetevi Commentate Condividete Un saluto da Aaron Blaze E da Arctic Runner Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti